Il 2022 verrà probabilmente ricordato unanimemente come l'anno della rivincita dei sensori APS-C. Ci sono infatti tante fotocamere e videocamere, tanti modelli che stanno uscendo in questi mesi, in questi giorni, che hanno un sensore APS-C e fanno veramente le scintille. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotocamere e videocamere mirrorless. Quindi andiamo a parlare di qualcosa di nuovo, di moderno, qualcosa che in realtà non è uscito proprio di recente, ma io ve ne parlo solo oggi perché ho avuto la possibilità di provare una Canoneos R10. Non ce l'ho qui con me, me l'ha fatta provare un mio collega che l'ha acquistata. Vi posso dire che questo sarà un video che colloco all'interno della serie Watch Before You Buy, che è una serie che noto che sta avendo molto successo. Sembra quasi che molti di voi siano molto più interessati a sentirmi parlare male dei prodotti, a sentire quelle che sono le pecche, piuttosto che a sentire quelli che sono i pregi. Probabilmente perché i pregi li sappiamo già tutti, li abbiamo già visti in tutte le salse, mentre quando andiamo a esaminare i difetti ci vuole un pochino più di occhio critico e soprattutto è interessantissimo andare a cercare di scoprire qual è la tipologia di utente che può andare a ricercare un determinato modello di fotocamera piuttosto che un altro. Bisogna andare a scavare all'interno dei dati per cercare di capire se la singola pecca di quel modello di fotocamera avrà un effetto sul nostro flusso di lavoro. È una cosa, un esercizio che io faccio sovente, mi piace farlo, anche perché così cerco di tenermi al passo e di scoprire se c'è qualcosa che mi può servire, qualcosa che va a migliorare il mio flusso di lavoro. Se questo tipo di tematica richiama fortemente il tuo interesse, a questo punto io ti invito a iscriverti a questo canale e attivando anche la campanella, in modo tale che ogni volta che rilascio un aggiornamento ci sarà un fastidioso gong che richiamerà la tua attenzione e ti obbligherà ad aprire il mio video. Scherzi a parte, andiamo a vedere quali sono per me le motivazioni per cui la Canon EOS R10 non è una fotocamera da comprare. Posto ovviamente che stiamo parlando di una fotocamera con delle ottime caratteristiche, io ho avuto modo di leggere approfonditamente le specs e anche di provarla e devo dire che è un buon prodotto. Non me la sento di dire che non sia così, la Canon EOS R10 è un buon prodotto, ma noi oggi siamo qui per esaminare solamente i fattori che a me non hanno fatto impazzire, per cui andiamo a incominciare. Prima di tutto stiamo parlando di una fotocamera con sensore non stabilizzato. Ora questo è un difetto che accomuna moltissime fotocamere, solamente quelle di fascia più alta hanno il sensore stabilizzato, per cui non possiamo illuderci di andare a spendere poco e avere una fotocamera con anche questa feature incapsulata. Ciò non di meno vi segnalo che non c'è, quindi nel momento in cui doveste andare a montare una lente priva di stabilizzazione non avrete la possibilità di stabilizzare per niente la vostra fotografia, la vostra ripresa video. Nel momento in cui avete un'ottica stabilizzata potete inserire la stabilizzazione dell'ottica, non potete però far andare a lavorare l'ottica contemporaneamente alla stabilizzazione sul sensore. Questo è un peccato. Un'altra cosa che personalmente reputo una pecca gravissima, ma dopo andremo a vedere perché potrebbe anche non esserlo, è la totale mancanza di un profilo log per quanto riguarda il video su questa fotocamera. Infatti se il modello successivo, ovvero Canon EOS R, quella con cui sto riprendendo in questo momento, dà la possibilità all'utente di utilizzare il profilo colore log e soprattutto gli dà la possibilità di registrare un video con 10 bit 422 di profondità colore, la sorellina più piccola, Canon EOS R10, non ti dà questa possibilità. Quindi avremo semplicemente i soliti profili Canon, quindi lo standard, il neutrale, il vivido, il paesaggio, quelli che abbiamo già, che siamo abituati a utilizzare nelle modalità creative. Avremo la possibilità di utilizzare questi profili, ma non avremo la possibilità di utilizzare il profilo log. A questo proposito vi ricordo che ho fatto uscire di recente un video dove parlo proprio del profilo colore log e di come può essere utilizzato per migliorare le nostre riprese video. Quindi se non avete la minima idea di che cosa io stia parlando, ve lo lascio in card e andatevelo a recuperare. Lasciatemi dire che è veramente un peccato che su una fotocamera come questa di questa generazione non ci sia un profilo log e non ci sia il 10 bit 422 direttamente in camera. Sulla EOS R7 c'è. Ora io mi rendo conto benissimo che facendo uscire questi due prodotti contemporaneamente non potevano fornire le medesime caratteristiche a entrambi, se no tutti quanti avremmo comprato R10 e nessuno avrebbe comprato R7. Quindi è giusto così. Non sto contestando la scelta di Canon che reputo corretta. Sto semplicemente avvisandovi che qualora vi servisse questa feature non potete andare su R10 perché ne è priva. Dovete quindi andare su R7. Quindi se il vostro core business è il video diciamo che R10 potrebbe non essere la scelta migliore perché non è sicuramente la fotocamera mirrorless APS-C di Canon più prestante da questo punto di vista. Altra pecca chiamiamola così è una cosa che personalmente non mi tocca assolutamente. L'ho già detto in tanti video io non sono per niente fan del doppio card slot. Nella Canon EOS R7 c'è, io non lo sto utilizzando, non lo uso mai. Uso sempre la single memory card perché mi sta bene così. Non ho mai perso niente in vita mia e quindi toccando ferro non utilizzo quasi mai questa feature della doppia memory card. Non l'ho mai utilizzata. Quindi sulla Canon EOS R7 ce l'avrei anche ma non la uso. Sulla R10 non c'è. Abbiamo una singola memory card ed è una card SD. Ora questo per me non è nemmeno un problema. So che molti potranno storcere il naso per una feature di questo tipo. Sulla R10 manca. Ora vi parlo di un ulteriore pecca che in realtà è proprio, cioè sto veramente facendo il pignolo. Sulla meravigliosa R7 che sto utilizzando in questo momento, camera che io sto amando alla follia, c'è il selettore di accensione a tre posizioni. Quindi abbiamo off, abbiamo on e abbiamo video. Questa è una genialata secondo me perché mi permette con un solo click di passare direttamente da spenta a modalità video. Per tutte le camere che non hanno questo tipo di selettore io devo poi andare a selezionare la modalità video in qualche altra maniera che può essere la pressione pulsante ulteriore come su Canon EOS R o che può essere il girare una ghiera come su qualche altro modello. Però insomma quando io mi trovo di fronte a questo step aggiuntivo storco sempre un po' il naso perché è così comodo avere un singolo selettore di accensione che mi catapulta già in modalità video. È una cosa di cui faccio veramente fatica a fare a meno. Mi dà fastidio non avere questo selettore. Su R7 c'è, su Canon EOS R10 questo selettore manca. Quindi una volta che accendiamo la fotocamera dovremmo poi andare a selezionare modalità foto o modalità video premendo qualcos'altro. Non abbiamo la possibilità di impostarla direttamente e non abbiamo neanche la possibilità di vedere com'è impostata. Perché un'altra cosa che a me piace molto di R7 è che nel momento in cui io l'ho già accesa e magari l'ho lasciata in posizione per qualche tempo perché magari mi sono messo a fare altro, a gestire la scena, ad allestire, nel momento in cui io torno alla mia fotocamera mi rendo conto semplicemente guardando quel selettore se è impostata su foto o se è impostata su video. Nel momento in cui io faccio la stessa cosa e sto utilizzando R10 non ho questa possibilità perché è accesa ma non so in che modalità è impostata finché non torno a riaccendere il display che nel frattempo sarà andato in stand by e non torno ad armeggiare con il device. Arriviamo ora a quello che secondo me è il problema più grave di R10 ovvero la batteria. La batteria è proprio l'intero vano, il comparto batteria memory card. Perché se con R7 hanno fatto secondo me un lavoro egregio perché hanno fondamentalmente ripreso quelle che sono le caratteristiche delle APS-C di fascia alta come potevano essere 7D, come poteva essere anche 5D, come potevano essere tutte le fotocamere diciamo serie di fascia media o alta. Hanno ripreso quel tipo di caratteristica per cui abbiamo una batteria che è sempre quella, è la batteria della 5D, la batteria della 7D, è sempre la stessa batteria. In questo momento io nella mia R7 sto usando la batteria della mia 5D perché ogni tanto le scambio, le sostituisco quindi in questo momento sto utilizzando un'altra batteria in questa fotocamera quindi è una comodità immensa ma soprattutto mi garantisce una durata di un certo tipo. Questa è la cosa di R10 che in assoluto mi ha fatto propendere per R7, la durata della batteria. Perché R10 utilizza un tipo di batteria che io conosco già perché ho già delle altre fotocamere che utilizzano quello stesso tipo di batteria anche se è un modello meno progredito, il problema di quella batteria è che non mi garantisce una durata sufficiente per portare a termine uno shooting o una fase di ripresa di portata professionale. È una batteria che non dura abbastanza, è una batteria che mi lascia a piedi, è una batteria che mi costringe a portarmi dietro altre batterie, carica batterie, insomma diventa seccante. A questo punto io preferisco spendere qualcosina in più e optare per R7 che ha una durata di batteria che mi lascia decisamente decisamente più tranquillo. Parlando di ergonomia e anche questa credetemi non è cosa da poco, R10 è piccola, per la miseria è piccola, è minuscola, cioè io non riesco a prenderla quella camera, è troppo piccola, cioè ti scivola via come una saponetta, è una cosa incredibile. Intendiamoci è una bella camera, il file d'uscita che esce da quella camera è bello, tanto quanto quello di R7, se parliamo di fotografia. Qualche megapixel in meno, ma veramente siamo lì, non c'è sta differenza. Per quanto riguarda il video, anche siamo lì, perché comunque gira in 4K, ha una bellissima immagine, veramente siamo lì. Però è piccola, è difficile da usare, ci sono meno accessori, perché non è considerata neanche vagamente professionale, è proprio considerata entry level amatoriale, quindi non si trovano i cage, non si trovano tutti gli accessori che io potrei avere su una R7 o su una R o su una R6, non si trovano tutti quegli accessori, per cui me la devo tenere in mano. Ed è veramente piccola, cioè è una camera che si tiene con tre dita, veramente per me è incredibilmente scomoda. Quindi questo però, attenzione, questo è un difetto per me, ma se voi avete la mano piccola o se non volete portare in giro tanto peso, si trasforma in un punto di forza. E colgo quest'occasione per andarvi a elencare, siccome sapete a me non piace parlare male delle cose, mi sembra una roba così un po' gratuita. Io non voglio parlarvi male di una fotocamera o di una videocamera, quindi adesso vi vado a elencare anche un paio di pregi. Innanzitutto questa fotocamera fa comunque 4K a 60p, quindi comunque ha un'immagine decisamente molto molto buona e ha anche una velocità assolutamente incomiabile per il prezzo che ha e per le dimensioni che ha. Seconda cosa su cui vado a mettere il punto, R10 ha il joystick, quindi per gli amanti del joystick è tornato il meraviglioso mirabolante joystick con cui possiamo andare a fare la selezione dei nostri 4000 punti di messa a fuoco, no sto scherzando, è inutile in tal senso, però per chi volesse andare a giocare dentro nelle impostazioni o fare cose con il joystick abbiamo la possibilità di farlo, perché R10 ha un piccolissimo joystick che funziona, funziona bene per carità. Altra cosa ulteriore che vi dico di R10, a differenza di R7, a differenza di EOS R, a differenza di tutte quelle che vengono considerate un po' le progredite, R10 ha un piccolo flash incorporato. Questa è una cosa che a me non dice niente, io non lo userei mai un flash del genere, perché sono abituato bene, perché sono abituato che se faccio foto magari ho il mio speedlight in borsa, perché sono abituato che se faccio qualcosa all'aria aperta o uso il cavalletto o mi porto altro tipo di illuminazione, insomma non è mai la soluzione per me il flash incapsulato sulla fotocamera, non mi piace. E vi dirò di più, non mi piace nemmeno la forma che prende la scocca quando c'è il flash incapsulato sulla fotocamera, quindi la preferisco senza, sotto tutti i punti di vista. Però è una garanzia, perché se dovesse succedere qualcosa, se io dovessi essere in emergenza e mi servisse a tutti i costi di fare una foto pulita, cioè intendiamoci, se c'è l'assassinio Kennedy e io sono lì e non ho il flash incapsulato, magari la foto non mi viene. Quindi se c'è un'emergenza vera, ho assolutamente bisogno di fare una foto e di illuminare e non ho niente con me, avere quel piccolo flash incapsulato una volta nella vita ti può anche salvare la giornata. Quindi questa è una piccola cosa in più che vi butto lì, che la R10 ha in più rispetto alla R7. Vi voglio parlare anche di un ultimo punto che può rendere molto appetibile R10 molto più di R7 e si tratta della diretta live streaming. Sì, perché questa piccola fotocamera con tutti i difetti che vi ho elencato, che però attenzione, sono difetti calcolati, perché questa è una fotocamera e videocamera pensata per un certo tipo di mercato. Quindi tipo di mercato che va a fare live streaming con la fotocamera o tipo di mercato che va a fare vlog, non è lo stesso tipo di mercato che si mette a fare color grading con il log. Sono due cose diverse. Io mi occupo anche di video a livello professionale e quindi a me fa molta gola avere la possibilità di girare col profilo colore log. Quindi io opto per R7 e non faccio mai live su YouTube, lo sapete benissimo, faccio solo cose indifferite. Quindi ci ho pensato, mi sono detto magari se avessi la possibilità poi farei anche le dirette, però mi sono detto il log e la batteria valgono di più per me delle dirette streaming. Queste due cose sono sicuro che le uso, mentre il live streaming di R10 non sono sicuro che l'avrei usato e quindi ho optato senza mai guardarmi indietro per R7. Nel caso in cui voi voleste fare delle dirette streaming su YouTube invece R10 sarebbe la fotocamera per voi, perché è vero che è un po' meno prestante dal punto di vista video, è vero che ha meno opzioni, però quelle opzioni non vi servono più se state facendo live streaming, perché a quel punto andate in diretta, non c'è post-produzione, c'è semmai un allestimento delle luci, mettete le cose così come devono essere per avere l'immagine già giusta in camera, cosa che ovviamente faccio anch'io, ma a me poi piace andare a toccacciarla in post-produzione. Voi invece non lo fareste perché stareste andando direttamente in live streaming, quindi sono proprio due filosofie completamente diverse ed ecco perché vi dico che R10 è un'ottima camera e quindi io posso stare qui a elencarvi tutti i suoi difetti, ma questo non cambia la realtà dei fatti, ovvero che sia un'ottima fotocamera e videocamera e che per il prezzo a cui potete portarvela a casa ne valga assolutamente la pena. Ora, io vi aspetto nei commenti perché sono curioso di sapere qual è la vostra esperienza, qualcuno di voi ce l'ha, qualcuno di voi l'ha provata, vi ha convinto o non vi ha convinto, preferite R7, preferite R10? Vi aspetto nei commenti, fatemelo sapere. Se avete domande particolari su qualcosa che reputate io non abbia approfondito nella maniera adeguata in questo o in altri video, parimenti fatemelo sapere. Vi invito di nuovo a iscrivervi al canale così rimanete aggiornati perché spesso io faccio dei video in risposta a dei vostri commenti, se mi chiedete un aggiornamento su qualcosa può essere che io lo faccia, se l'argomento è interessante e ovviamente ve lo perdete se non vi scrivete, quindi io vi consiglio di attivare anche la campanella. Lasciate anche un like a questo video perché sono sicuro che ho in qualche maniera orientato la vostra scelta se stavate pensando di acquistare R7 o R10. Io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video.